Zora Neale Hurston Zora Neale Hurston nacque da una maestra e da un pastore alla fine dell'Ottocento in Alabama, uno stato del sud. Quando aveva appena tre anni, la famiglia si trasferì a Etonville, in Florida, la prima città degli Stati Uniti, costruita e abitata interamente da afroamericani. Lì suo padre fu eletto sindaco e lì la piccola iniziò a ricevere la sua prima educazione. Utilizzò i racconti che aveva sentito a Etonville e le incredibili storie, narrate dagli anziani del paese nel porticato dell'Emporio, come materiale per la sua prima opera. Nel romanzo I loro occhi guardavano Dio, che vogliamo proporre, Zora ripercorre la fondazione di Etonville e prende spunto dalla figura paterna, quando descrive il marito della protagonista Jenny come suo primo sindaco. Un uomo che da un lato ha il carisma e l'intelligenza per organizzare i neri, divenendo il loro leader e guidandoli nel creare la loro città. Dall'altro è profondamente maschilista. Bisogna pur che ci sia qualcuno che pensi per le donne, le galline e le mucche, dice il sindaco di Etonville, visto che da sé non sanno fare niente. Un uomo che cerca di dominare la moglie Jenny, nemesi della stessa Zora, finché lei non tace. Finché, scrive, lo spirito del matrimonio esce dalla camera da letto e il letto stesso diventa solo un mobile dove lei si sdraia a riposare. Lei aveva trovato un diamante al fondo di sé stessa e voleva camminare dove tutti gli uomini potessero vederla e scorgerne il lucicore, invece l'avevano esposta al mercato perché si facesse strazio di lei. Sono parole di Zora, che come Jenny, sua nemesi e personaggio del suo romanzo, è ben lungi dal farsi sottomettere. Jenny è una donna che cerca un senso nella vita e non smette di cercare, nonostante le delusioni, le amarezze e gli spaventi, ma lo fa con leggerezza, con allegria, molto lontana dallo stereotipo di rabbiosa disperazione dell'altra letteratura nera. Quando Zora lasciò la famiglia, fece la guardarobiera per una compagnia teatrale, la badante e la manicurista presso un barbiere per bianchi. Fu allora che per la prima volta scoprì cosa fosse la segregazione che, data la sua provenienza da una città di neri, non aveva mai sperimentato. Nel frattempo studiava e scriveva racconti. Andava a lezione la mattina, lavorava dal barbiere nel pomeriggio e studiava di notte e così arrivò all'università, dove grazie a una borsa di studio si laureò in antropologia. Nel frattempo riuscì a pubblicare i suoi racconti, perché ci fu sempre chi notava il suo talento e l'aiutava ad andare avanti. Vinse premi e concorsi e cominciò a essere conosciuta. Fu proprio durante le ricerche sul campo per il suo docente di antropologia ad Harlem, a Eitonville, in Louisiana, in tutta la Florida, ad Haiti e in Jamaica, dove lei si integrava nelle comunità nere, che raccolse il materiale che poi sapientemente usava nei suoi romanzi, ma anche studi antropologici ed etnologici molto seri e importanti testimonianze di folclore. Divenne una tra le scrittrici afroamericane più influenti della Harlem Renaissance, un movimento di grandi fermenti creativi che coinvolse ogni espressione artistica, valorizzando la ricchezza dell'eredità africana, i suoi racconti di folclore e il dialetto afroamericano, così come lei lo sentiva e documentava, pieno di insulti e di frasi colorite. Le storie di Zora raccontano la vita e le ingiustizie che le donne devono subire, i mariti che le umiliano, le picchiano o le imbrogliano fuggendo col loro denaro, ma non c'è accredine o polemica nella sua scrittura e la osserva e con calma glaciale e stupefacente dignità ne prende atto da brava antropologa. Naturalmente la critica patriarcale non poteva né capire né appoggiare la sottile forma di femminismo di questa straordinaria donna che negli anni venti del Novecento, femmina e nera, riuscì a imporsi nel panorama letterario. Gli stessi critici neri della Harlem Renaissance la accusavano di parlare del suo popolo in modo non solidale, mettendo in risalto i suoi difetti. In realtà Zora metteva in luce i difetti e le debolezze degli uomini neri, non della gente nera. E questo non andava ai critici né neri né bianchi. Zora raccontava storie di donne, semplici ma forti, che riscattano se stesse con la loro intelligenza, bellezza, acume e indomabilità. Le donne, create da Zora, si aiutano da sole, non stanno ad aspettare, come si dice, la manna dal cielo. Lei stessa fu una tra le prime affiliate alla sorellanza Zeta Phi Beta, nata per dare aiuto e sostegno alle donne durante il periodo universitario. Non metteva politica nei suoi scritti, usava il dialetto afroamericano perché la sua formazione antropologica le suggeriva di essere quanto più possibile aderente alla realtà. E anche questo fu malvisto dalla critica, come se lei volesse sminuire la gente nera. Zora riferiva il modo di vita della sua gente senza giudicarla né modificarla per renderla socialmente accettabile secondo la visione dei bianchi. Al contrario, gli altri scrittori neri cercavano l'approvazione del pubblico bianco e temevano che i loro sforzi per integrarsi fossero inficiati dall'evocazione dell'esperienza rurale dei loro antenati giunti come schiavi che usciva dalla penna di Zora. Lei invece era convinta della vitalità e delle potenzialità della gente di colore e si oppose alla legislazione che forzava l'integrazione dei neri nella cultura bianca rimanendo così isolata dagli altri afroamericani che viceversa volevano l'assimilazione. Contemporaneamente, un'altra coraggiosa, grande donna, la cilena Gabriela Mistral, Nobel per la letteratura, predicava nell'America meridionale che la cultura insegnata nelle scuole fosse, dovesse essere quella nativa, non quella europea impartita dalle maestre tedesche e insegnava al pueblo ad essere orgoglioso delle sue radici culturali e delle sue tradizioni. Tornando a Zora, la sua perorazione in difesa della vitalità della cultura africana precede i movimenti culturali che iniziarono a fiorire negli anni settanta, ovvero quarant'anni dopo. Durante gli ultimi anni della sua vita il suo lavoro piombò nell'oscurità e di conseguenza lei in uno stato di estrema povertà. Lavorò a periodi come donna di servizio, bibliotecaria, supplente, editorialista e infine il suo cuore non resse più. Lasciò il corpo all'inizio del 1960, a 68 anni, e fu sepolta in una tomba senza nome. All'inizio degli anni settanta la scrittrice e poeta afroamericana Alice Walker, attivista femminista per i diritti delle donne di colore, è stata determinante nel ristabilire la reputazione di Zora. Alice fece erigere una lapide con la scritta Zora Neale Hurston, novelist, folklorist, anthropologist, a genius of the South. Oggi pochi sono i collegi e le università che non includano la lettura di almeno uno dei suoi libri. Ancora una volta, come mille altre volte, il riconoscimento arriva dopo la morte. Il suo capolavoro, I loro occhi guardavano Dio, scritto in sole sette settimane ad Haiti, è il romanzo che la Scuola delle donne vi propone, edizione Frassinelli tipografo Torino, traduzione di Ada Prospero, legge Giorgia, figlia di Lidia. Da Devana, figlia di Liliana, buon ascolto.